Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX in questo nuovo video, sono qui a giocare a Hellsword con questa nuova testa in compagnia di... A Hellsword soprattutto! A Hellsword! No cazzo non è Hellsword, questo è Minecraft! Che stai facendo qua sotto? Sto per morire! Perché stai sotto l'acqua? Perché? Sto per morire! Aspetta! Devo ricoprire la piscina io! Ma perché sei andato sott'acqua? Perché mi serve l'argilla! L'argilla sta lì sotto? Sì! Ecco, allora, mi serve l'argilla per fare che? Il vasino! Ah, il vasino? Il vasino! Per caccare meglio! Questa è la voglia di poppante che ho io, devi capirlo! La voglia di poppare? Poppante, no pop... Sei morta! Ma sei scema! Ma vaffanculo, uscito la testa e sono... Ma tu perché non fai il respiratore? Ma te lo faccio io il secchio, aspetta! Fai lo tu, visto che mi ami tanto! No, fattelo tu, basta! Non te lo faccio più! Basta fare versi durante il video che senta altissimo il volume! E allora fammi il vasino! No, fattelo tu il vasino! Prendi l'argilla e scaldatela! Ne ho 44, mi bastano! Sì, prendi l'argilla e scaldala! Almeno devi fare tre lingotti d'argilla! E poi ti metto come secchiello! È brava! E fai il vasino! E poi ci metti i fiori dentro! Ci metti i fiori, qualche volta! No, aspetta, ho sbagliato! Ho sbagliato i conti qua! Madonna, ho sbagliato! E mo, mo, dò cazzo! Mi serve una paletta, mi serve! La paletta? Sì, mi serve una paletta! La paletta e stecchiello! Vieni qua! No, vieni, dai! Dai, si! Facciami la paletta! Grazie, vediamo la testa tua! Bella, ok! Oddio! Che cosa ridi? Tu sei una paletta! Ehi! Una paletta e stecchiello! Mi prende in giro sempre! Si diverte! Si diverte! No, sto cercando di montare sta cosa, aiuto! Zilberro, stai attento! Mi preoccupare, io non muoio come te! Dronato! Oh, d'acqua! Drone! Drone! Clenface, drone! Un dronato! Sì, 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 che a cazzo sto morendo! Ok, sono vivo! Ah, suca! No, sono vivo! Ah! Se ho visto, perché vuoi, mi vuoi morto, mi vuoi! E tu vuoi, volta a me, che checchie vuoi! Aspetta, dobbiamo prendere un po' di merda! Eh, vado tutto tutto usato qua! Tu per fare una... delle stronzate proprio! Miche, ma lo sapevi che noi in questa cassa c'avevo due diamanti, due testi di scheletro... Che 64, lo dici... Cioè, che cazzo c'abbiamo qua? Pidra rossa! Ma che cazzo c'hai là dentro! Oddio! Io, cosa c'ho? Il mistero della fede! Eh, non c'è la nostra morte! No! No! Ma senti che ho dovuto cercare di metterci... Snito la terra! No! Che stai facendo? Che prendi puttosi! Con la terra, perché la sabbia fa schifo! No! La sabbia cade! Piccola! Ne so, ne serve di più, infatti! E dobbiamo prenderla da qua sotto! Ma non credo proprio! Ma dai, ma che cazzo! Prendo la terra e facciamo puttosi di sabbia e terra! Non mi interessa! Comunque devo craftare i fuochi d'artificio per capodanno! Eh, auguri! Sì, fa con la polvere da sparo! Noi i polveri da sparo dovremmo averla! Però fuochi d'artificio non ne so ci fare! Adesso proviamo! Nemmeno io! Eh? Nemmeno io! E poi vediamo come ti fa! Come i bimbi! Come i bimbi? Tu sei una bimbo! Mmm! Mi prende sempre in giro! Ti prende sempre in giro, veramente sono bimbo! Ti diverti, ti diverti! E mettilo che ti diverto a prendere in giro! Prendere in giro una patatina! Ah! Ah! Hai visto, hai visto come mi prendi in giro? Sì! È un cretino sei! No! Sì, sì, sei un cretino! Aiuto! Caputtana! Ti serve una mano? Sì, mi serve che devi fare il vasetto! Devi fare i blocchi! Stai scaldando! Sì, che io sto morendo qua! Devo prendere un po' d'aria! Aspè! Però non c'è niente da mangiare! Come un coglione! Vai nella cassa, ti scaldi da mangiare e non rompi il cazzo! Vediamo, questa cassa c'è da mangiare, sì, ci sono due polli! Mangiamoli! Devi imparare a cucinarti da solo! Mai so cucinarmi! Mi cucino! Mi metto dentro la pentola e mi cucino! Oh sì! No! Potatini! Abbiamo un piccolo indiamante e nessuno lo sapeva! Lo sapevano! No, no! Se si guardano l'App 2 lo sapevano! Sì, ma che cazzo c'è! Tu lo sapevi? L'ossidiana! L'ossidiana sennò come cazzo l'avevi prese! Come si fa il blocco? Aspetta! Il blocco di pietra rossa! Non lo so! Non me lo chiedere a me! No! C'è una bimba! Una bimba piccola, sì! Sta diventando notte! A me lo andiamo a dormire! Ora ora ora! Con calma! Allora i mattoncini li ho fatti! Ne ho fatti 22! Ok, devi metterli a 3 e fare... Poi mettiamoci un fiore sopra! Ci facciamo il vasetto! Ci facciamo! Sì, il vasetto! Aspetta che vanno a pennello vanno! Aspetta! No, vabbè che culo! 13 torci di pietra rossa! 13 minchie di pietra rossa! Mette un po' di torci attorno alla piscina! Se no arrivano i mostri si vanno il bagnetto! Prima che apra! Muffa! Che è? Oh, niente! Che c'è? Ok, così respiriamo meglio la notte! Cos'hai messo? Il fiore? I fiorellini vicino a letto! Li devono prendere ancora per i fiorellini! No, li devi prendere! Ho messo il vasino vuoto! No, piccolo! Dammi un fiore, dammi un fiore! Eh, vattela prendi! Lì c'è un fiore, lì c'è un fiore, lì c'è un fiore! Dove ci sei tu? Ci sono i fiori! Sì! Cammino nei campi di fiori, cammino! Vieni qua fiorellino, bravo! Aspetta che sto ancora lì coprendo qua, dimmi quando posso andare a camminare! Guarda che cammino con il fiorellino! Dove sei? Per è rosso! Una rossa rossa per il mio amore! Aspetta che sto rompendo tutto! Esco a spaccare la pietra luce! Ti aspetto nel letto! E punto è! E punto è! Che cazzo è stato quel rumore? Cosa? Amore, fra un pochettino qualcuno cacchierà al lupi! Tu dici? Sì, vieni qua, mi spaventa di andare a dormire! Prima che appena dormo spunta il coso! Aspetta, guarda un po' in alto, guarda un po' in alto! Il tizio che ti stupra! Aspetta che è buggato, hanno cambiato la schiena! Che cosa fai? Aspetta, fammi arrivare! Fammi arrivare! Io dobbiamo saltare! Dai, vieni qua! Guarda, tu mi hai messo il rellino! Non ho chiuso la pompa! Ma dove l'hai messo? Perché l'hai messo là sopra il vasetto? Perché sì! Fammi andare a Ninna! E levati davanti! Notte! Oddio, che ne dici? Salutiamo nel video! Non lo so, quando sei arrivato? Non lo so, però... Non toccare il mio rellino! Oddio! Sono tardi! Non guidare che si diventa un minchia! Infrange i miei sogni! I tuoi fiori! Che cosa hai detto? Appena ti avvicino a questo fiore, ti uccido! Perché sta una testa di aero, prego? Perché è un bug molto sexy! Dai, oh vieni, salutiamo! Calma! Dai, veloce! Che potevo spagnare il video? Poi per passarlo ci vuole la vita! Beh ragazzi, per questo video è tutto! Grazie per l'utilizzazione! Spero che il video vi sia piaciuto! Saluta, more! Ciao a tutti ragazzi! Ciao, 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 ciao!